Il governo è specificatamente incaricato della supervisione e della protezione della pace e del benessere civico entro i confini di una nazione o di una comunità. Dio non ha concesso ai governanti civili l'autorità sulla dottrina, la pratica o il sistema politico della Chiesa. Il quadro biblico limita l'autorità di un'istituzione alla sua specifica giurisdizione. Quando una qualsiasi delle tre istituzioni, la famiglia, lo Stato e la Chiesa, supera i limiti della sua giurisdizione e dovere delle altre istituzioni ridurre tale superamento. Pertanto, quando un funzionario del governo emette ordini che regolano il culto, come divieti di cantare, limitazione del numero dei partecipanti o divieti contro riunioni e servizi, esce dai limiti legittimi della sua autorità ordinata da Dio come funzionario civico e si arroga l'autorità che Dio concede espressamente solo al Signore Gesù Cristo come sovrano del suo regno che è la sua Chiesa. L'ordine biblico è chiaro. Cristo è il Signore su Cesare e non viceversa. Cristo, non Cesare, è il capo della Chiesa. Al contrario, la Chiesa non governa in alcun modo lo Stato. Ancora una volta, questi sono regni distinti e Cristo è sovrano su entrambi. Nella Chiesa, nello Stato, hanno un'autorità superiore a quella di Cristo stesso che dichiarò, ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Matteo 28, verso 18.